allora volevo in qualche modo farvi fare un'esperienza una piccola piccola esperienza proprio lavorando sugli occhi va bene lavorando sugli occhi facendo un esercizio che blocca un po il cervello quindi tiene il cervello in uno stato di calma e produce una sorta di psichedelia ma è una è uno dei quei dei contatti con se stessi è un esercizio che porta ad avere un contatto con se stesso innanzitutto primario a un livello molto base molto superficiale nel senso che non si scende troppo nel profondo ma che poi col tempo aiuta il cervello a entrare sempre più velocemente in quello stesso stadio e mano a mano ad approfondire sempre di più il percorso che andrà a incontrare quindi il primo livello saranno dei colori che potreste vedere dei colori non tanto delle immagini ma definite come forme geometriche ma magari delle delle sfere o delle cose di questo genere di colore va bene parlo al singolare perché importante parlare al singolare porta attenzione al respiro porta attenzione al respiro e chiudi i tuoi occhi lascia che il respiro ti culli lascia che il respiro entrando ed uscendo da te ti culli con dolcezza e amorevolezza ascolta il respiro i polmoni la cassa toracica si espande si restringe così il diaframma diaframma e cassa toracica con i polmoni si espandono e si e si contraggono e respiro ti culla ti culla sempre di più il respiro entra il respiro esce segui la mia voce e porta attenzione mentre il tuo respiro continua a cullarti al tuo occhio sinistro percepisci del tuo occhio sinistro la consistenza la pesantezza la presenza percepisci il tuo occhio sinistro tra poco ti chiederò di applicare dei movimenti insieme in contemporanea a delle respirazioni al tuo occhio sinistro si partirà sempre con l'occhio sinistro con la pupilla al centro e quando la pupilla è al centro si inspira per cui adesso svuota i tuoi polmoni e occhio sinistro al centro inspiro inspira occhio sinistro tutto a sinistra verso la tempia espira occhio sinistro occhio sinistro tutto a destra verso il naso espiro occhio sinistro al centro inspiro occhio sinistro verso la fronte verso l'alto espiro occhio sinistro verso il basso occhio sinistro verso il basso guarda verso il basso espiro occhio sinistro al centro inspiro occhio sinistro a sinistra verso la tempia espiro occhio sinistro a destra verso il naso espiro occhio sinistro al centro inspiro occhio sinistro verso l'alto spiro occhio sinistro al centro in spiro occhio sinistro verso il basso espiro occhio sinistro al centro in spiro bene prendi la tua respirazione normale e ora ascolta e percepisci la differenza tra l'occhio sinistro e l'occhio destro nota la differenza tra i due occhi nella persistenza nella compattezza nella presenza nella pesantezza senti la differenza tra l'occhio sinistro e l'occhio destro senti la differenza tra l'occhio sinistro e l'occhio destro percepisci completamente la presenza la sua consistenza e quanto pesa adesso il tuo occhio destro anche qui si vuotiamo i polmoni occhio destro al centro in spiro occhio destro a destra tempia espiro occhio destro al centro in spiro occhio destro verso la fronte verso l'alto e spiro occhio destro al centro in spiro occhio destro verso il basso squat e spiro e spiro 高i intro verso la fronte verso il basso et spiro occhio destro al centro in spiro occhio destro a sinistra rak sul naso espiro occhio destro al centro innespiro occhio destro verso l'alto espiro occhio destro al centro innespiro occhio destro verso il basso innespiro occhio destro al centro innespiro percepisci i due occhi e lasciati trasportare dalla sensazione che i due occhi ti stanno donando colori sensazioni percezioni lascia che tutto in te si presenti qualsiasi cosa non ha importanza colori scintille ogni cosa in questo momento se i tuoi occhi ti lascio qualche attimo a vivere questa esperienza di luci e di colori grazie a tutti ancora quando lo desideri potrai decidere di uscire da questa esperienza conservando la tranquillità e la serenità che essa ti ha donato e allo stesso tempo potrai portare con te il ricordo dell'esperienza che hai vissuto per farlo basta che utilizzi dei respiri lenti e profondi contrai la muscolatura e quindi uscirai con serenità dall'esperienza grazie a tutti grazie a tutti